Momenti di forte preoccupazione per un ragazzo tredicenne residente a Borgosesia, mentre Schiave è rimasto coinvolto in un roccambolesco incidente, dove è precipitato per diversi metri dopo una caduta. Se l'è cavata con due fratture. Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica, verso le ore 8 e 30, sulle piste da sci di Bielmonte. Il giovane, infatti, nella fase di preriscaldamento in vista di una gara, è caduto sulla pista ed è scivolato oltrepassando le reti di protezione. Recuperato fuori pista, il ragazzino è stato immediatamente elitrasportato all'ospedale di Novara. Il tredicenne è fortunatamente rimasto sempre cosciente. Giunto nel nosocomio è stato sottoposto ad un attack che non ha evidenziato nessuna lesione alla colonna vertebrale o agli arti. Salvo due fratture, una al polso e l'altra ad un dito della mano. È stato immediatamente assistito dal personale del soccorso piste di Bielmonte.